L'arco di Chieri è stato eretto dalla Municipalità sulla Via Maestra nel 1586. Concepito in origine per celebrare la visita a Chieri di Emanuele Filiberto, duca di Savoia, morto lo stesso anno, venne inaugurato ufficialmente sotto il regno di suo figlio Carlo Emanuele I, il giorno in cui il sovrano visitò Chieri con la consorte Caterina d'Austria. Autore del progetto fu l'architetto Battista Riva. La realizzazione fu opera del capomastro Bernardino Rostagno. Formato da un ordine architettonico monumentale di stile corinzio, con alta sovrastruttura centrale e piramidi laterali, l'arco fu più volte rimaneggiato nei secoli. In origine era ornato da quattro statue poste sull'attico, rimosse nel 1593. Le statue del duca e della duchessa, poste nelle nicchie, furono rimosse durante il periodo giacobino. L'intervento di restauro più significativo avvenne nel 1761, quando a realizzarne modifiche e consolidamenti venne chiamato l'architetto Bernardo Antonio Vittone, il quale prescrisse la rimozione ed il rifacimento degli intonaci. Nel 1799 l'arco fu interamente ridipinto dal pittore Marmori in occasione della presa di Torino da parte degli Austro-Russi. Nuovi interventi occorsero nell'anno 1836, ad opera dell'architetto Felice Cursial. I decori in stile neoclassico del fregio risalgono a quell'intervento. All'inizio degli anni 2000, l'arco fu oggetto di una nuova campagna di restauro. L'architetto Felice Cursi